Concerti Vasco Rossi 2018 2 punti Ecco quanto costano i biglietti e dove comprarli VinZuiden Diffuso il calendario dei concerti di Vasco Rossi del 2018, ecco quanto costano i biglietti. . Cancelletto Vasco Rossi è pronto per tornare ad esibirsi di nuovo dal vivo davanti ai suoi milioni di fan dopo lo straordinario successo del Modena Park di quest'estate che ha attirato l'attenzione di quasi 250.000 spettatori paganti. . Un successo clamoroso per il rocker italiano che ha messo a segno uno dei record assoluti della storica della musica italiana ed internazionale. . Ma Vasco Rossi non ha intenzione di appendere il microfono al chiodo e si prepara già per l'estate 2018, la quale sarà caratterizzata da una nuova serie di eventi live in giro in tutta Italia. . Ecco il calendario dei concerti di Vasco Rossi del 2018. Proprio in queste ore, infatti, sono state annunciate le date ufficiali dei prossimi concerti che Vasco Rossi terrà nel 2018, 9 le date annunciate all'interno degli stadi più grandi d'Italia. . . Nel dettaglio il calendario completo dei prossimi concerti di Vasco prevede che la prima data sarà quella dell'1 grado giugno allo Stadio Olimpico di Torino, cui seguirà il bis del 2 giugno. . 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 Per acquistare italiani bisognerà collegarsi al sito web vivaticket.it, l'unico rivenditore ufficiale per gli show di Vasco. Per quanto riguarda il prezzo dei biglietti si partirà da un minimo di 50 euro fino ad arrivare a 200 euro. . . . .